Maurizio grazie mille dell'invito sono stra felice di conoscerti di fare due chiacchiere con te. Tu hai suonato con un botto di grandi batteristi quindi dopo ti interrogo e mi racconti qualcosa. Spero di ricordarmi di tutti. Ma a parte questo tu sei anche veramente un pezzo di storia della musica italiana per le cose che hai fatto con Vasco e non solo e da lì vorrei partire Per prima di partire dai batteristi vorrei che mi raccontassi un po' come è iniziata questa tua carriera strepitosa. Tu eri giovanissimo ho letto un po' di cose su di te. Non è partita subito da una carriera strepitosa. Io sono partito dal mio paese col mio trio a 11-12 anni e facevamo i pezzi di Jimi Hendrix, dei Krim, degli Yardbirds e dei gruppi che stavano nascendo all'epoca e poi ho suonato in qualche localino così ci portava il padre del batterista col fulgone hai capito? Cioè niente di professionale. Però hai iniziato molto presto quindi a suonare. Sì beh chiaramente insomma così come capitava insomma non certo il concerto di Maurizio Suglieri Certo. Sì però voglio dire... Delle volte abbiamo aperto anche perché nel paese dove sono nato e cresciuto fino a 24 anni in Concordia, provincia di Modena, c'era un locale, una discoteca che si chiamava La Lucciola e lì ci facevano molti concerti importanti di musicisti prog italiani, la PFM, Banco e tutti quanti. E anche dei gruppi inglesi e mi ricordo che un paio di volte abbiamo aperto io e il mio trio che si chiamava Wave abbiamo aperto appunto prima di questi gruppi che potevano anche essere i Poo all'inizio che potevano essere anche altri gruppi italiani che comunque facevano parte di questo movimento prog e poi niente poi nel frattempo studiavo ho fatto le superiori, ho fatto il liceo classico, poi visto che mio padre era medico i miei spingevano perché facessi medicina, medicina, medicina che non mi interessava però per accontentare loro mi sono iscritto a medicina, ho fatto tre anni, qualche esame però insomma io amavo la musica e volevo fare la musica. Tu stavi studiando, erano gli anni in cui non era facilissimo trovare anche gli insegnanti di musica No, ma io ho andato tutto da solo, cioè all'inizio inizio inizio andavo a lezione un po' di solfeggio dal maestro della banda del mio paese che suonava il clarinetto quindi quelle cose un po' felliniane eccetera eccetera, poi qualche amico più vecchio di me che suonava già in gruppi, lo feceva professionalmente, mi ha insegnato diciamo alcuni trucchi, mi prestava la prima volta che usai un Fender Twin Reverb e una Fender Telecaster, non ci potevo credere insomma, poi dopo la comprai a rate insomma solite cose e dopodiché dopo tre anni di università decisi di prendermi un anno sabbatico perché non mi piaceva, non era il mio mondo quello dell'università, della medicina eccetera eccetera quindi feci il militare e durante il militare conobbi tramite un mio amico che suonava con me con un paesano che si chiama Sergio Silvestri che era già amico di Vasco prima ancora che Vasco facesse qualsiasi cosa, erano in collegio insieme al collegio dei Salesiani di Modena e si sono conosciuti lì poi dopo anche lui per un po' di anni non lo vide, si rincontrarono verso la metà degli anni 70 quando Vasco aveva fondato questa radio insieme a altri che si chiamava appunto Radio e facevano queste feste e allora Seso lo incontrò, ciao, ciao, allora visto che anche Seso come me è sempre stato un grande appassionato di musica di cultura musicale, di giornali, di tutto quello che veniva dall'America dell'Inghilterra entrò in questa radio e quando io tornavo in licenza al mio paese lui mi diceva fra quando finirai verrai anche tu come è stato infatti nell'estate del 77 appena finito il militare andai su Azocca e entrai a far parte dello staff di questa appunto radio dove incominciai con un programma di jazz fra l'altro ah si? si 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 perché io sono sempre stato un appassionato di vari generi musicali dal punto di vista culturale ho letto libri su tutto, su tutti eccetera eccetera e allora ero intreppato col jazz perché volevo imparare qualcosa di diverso insomma ah non ti ho raccontato che quando ancora facevo il militare mi chiamò sempre questo amico Silvestri dicendomi dobbiamo andare a Milano a fare dei provini con Vasco e un altro che si chiamava Riccardo Bellei erano i puntautori, i cantautori di punto radio insomma allora andare a Milano in treno siamo partiti capito io ho preso una settimana di permesso dal mio capitano e andai anch'io a Milano in questi studi che avevano ancora i tecnici col camice bianco da altri tempi e suonare la chitarra non con Vasco ma nei pezzi di Sergio Silvestri che poi qualche anno dopo fece un disco dove ho suonato io eccetera eccetera e per cui siamo partiti io, Silvestri, Vasco, Gaetano Curreri era già un amico mio e di Sergio prima ancora che di Vasco perché noi avevamo questa band a Vignola che è un paese in provincia di Modena e lui viveva a Vignola e ci conoscevamo già dall'epoca per cui insomma abbiamo fatto questo gruppo di amici e siamo andati a Milano a fare questi demo così con un patema d'animo sai figurati adesso è tutto semplice tutto facile si fa tutto in casa tutto sono tutti ricchi e famosi tutti hai capito con le cosce dei fuori hai capito allora già a Milano sembra andare a Londra hai capito? parliamo della fine degli anni 70? sì 76-77 e poi dalla radio dalle prime feste di punto radio abbiamo cominciato a suonare anch'io con Vasco abbiamo cominciato a fare i primi pezzi il primo disco dove ho suonato solo in un pezzo la chitarra acustica per gelosia del chitarrista che faceva parte di questa band che si chiamavano i Club 72 anzi le 5 lire prima si chiamavano Club 72 e poi finalmente col secondo disco io e Gaetano abbiamo curato in gran parte gli arrangiamenti del disco non siamo mica gli americani il famoso disco di Alba Chiara poi da lì avanti e da lì è partita ma come come hai convinto Vasco a prenderti nel suo entourage dei musicisti perché poi sappiamo che nel tempo no ma io non l'ho convinto lavoravamo insieme in radio facevamo i programmi in radio cioè lui ti ha sentito suonare e lui già dalla prima volta quando andammo a Milano in treno lui aveva questa bellissima ovation no? io figurati cioè mai vista l'avevo solo vista in mano a Franco Mussida quando andavo a vedere la PFM o a altri chitarristi e gli dissi me la fai provare no? figurati c'era la chitarra elettroacustica più tecnologica che esistesse lui si 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 te la do te la do ora apre la custodia io ho cominciato capito? lui mi guarda e fa cazzo ma sei bravo da matti tu eh? te devi suonare con me capito? ecco questa è stata quindi è stata una cosa naturale insomma entrare in quella situazione lì e da lì poi è andata avanti si sa la storia avete avuto veramente i successi con calma eh perché non è non è venuto subito insomma diciamo abbiamo fatto tanti anni anche di gavetta insomma il successo vero è arrivato nell'83 con Vita Spericolata certo con cui facciamo il primo tour a livello nazionale prima suonavamo in Emilia Romagna e se andavamo a Firenze venivano 20 persone capito? per cui si vi siete comunque fatti la gavetta si però con grande allegria no? con la depressione di adesso che se non sei famoso subito ti suicidi hai capito? come fanno i molti ragazzotti di adesso hai capito? e niente poi da lì avanti 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 e poi la band alla fine è rimasto un nucleo più o meno storico quello che poi è diventato la Steve Rogers band no? ma quello che mi chiedevo è nel tempo sono cambiati dei musicisti anche se poi i batteristi ne sono cambiati tanti perché io ho fatto un video ne ho contati più di 20 no? tra studio e live ne sono passati tanti penso che tu abbia suonato quasi con tutti di questi batteristi quantomeno live beh a parte in studio in studio no cioè voglio dire quando diciamo finché i dischi li facevano tutti in Italia tutti in Fono Printo Studio Limitrofi a Modena alla Maison Blanche eccetera 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 ho suonato con i batteristi italiani Lele Melotti eccetera eccetera tedeschi eccetera eccetera poi dopo quando hanno incominciato ad andare a Los Angeles dal 92 in poi io ho sempre fatto degli overdubs in studio sempre qui in Fono però non ho mai fatto prima facevo anche le basi dopo vabbè le basi venivano fatte in America alcune chitarre in America poi diciamo il lavoro veniva finito qua certo ma mi chiedevo questo all'interno del contesto della band di Vasco sono girati dei musicisti qual era la caratteristica raggiunto soprattutto il successo quindi a quel punto tu puoi prendere veramente un po' chi ti pare tu avrai sicuramente partecipato a audizioni piuttosto che no non ho mai partecipato a audizioni era una cosa che faceva Elmi con Vasco hai capito? anzi è sempre stato Elmi a voglio dire visto che comunque era un grande ascoltatore di musica come me bene o male non a caso allora stepp burns lo abbiamo scoperto dai dischi di Alice Cooper insieme si come anche altri batteristi altri personaggi eccetera eccetera era Elmi che da Americanofilo qual era spingeva a Vasco andava bene anche l'Ele Melotti ho capito era questo che volevo sapere se voi nella band eravate un po' coinvolti nel processo e che cosa soprattutto nel periodo italiano della band italiana quindi prima di gli spari sopra no? intendo esatto che caratteristiche doveva avere un musicista per far parte oltre a quelli musicali? allora c'era la Steve Rogers Band era una band che per anni è rimasta sempre la stessa hai capito? la prima Steve Rogers Band fino all'83 con Roberto Casini e Andrea Righi Massimo Riva e il sottoscritto e Mimmo Camporeale e poi dopo dall'84 sono entrati il Gallo che già suonava nei dischi e Daniele Tedeschi però si chiamava sempre Steve Rogers Band insomma fino al 93, 92, 91 eccetera la band era quella anche quando nel 91-92 facemmo i tour europei e abbiamo suonato anche in Canada insomma la band era quella il Gallo non c'era in quel periodo perchè per come non mi ricordo c'era Lorenzino Pollo esatto che era la mia città anche perchè poi dal quando noi nell'88 al finire dell'88 come Steve Rogers Band ce ne andammo da Vasco perchè avevamo avuto il successo con Anzati La Gonna quindi bene o male insomma era bello cioè voglio dire eravamo molto gasati anche dal fatto di avere una band in prima persona di poter fare le cose senza dover sempre comunque obbedire ecco infatti io volevo andare su questo aspetto qui che è un discorso un po' più generale al di là del fatto perchè è una storia molto nota il fatto che siete usciti dalla band Vasco se l'ha presa malissimo poi comunque siete rientrati io tra l'altro ho letto un bel libro che credo sia anche un libro ufficiale dove proprio Vasco racconta che lui sentiva la mancanza dei suoi musicisti per quello è la domanda che caratteristiche bisognava avere al di là di quelle musicali immagino che Vasco volesse anche un team di persone di un certo tipo o come a Combrico allora diciamo il discorso della bravura musicale del collaborare dal punto di vista diciamo della scrittura delle canzoni e degli arrangiamenti andava di pari passo con l'amicizia perchè eravamo tutti venivamo tutti dalle stesse situazioni eravamo stati amici eravamo condiviso anche case appartamenti insieme eccetera eccetera per cui c'era un rapporto di amicizia dal momento stesso in cui è finita questa cosa è finita nel senso che la Steve Rogers Band ma più per seguire era Massimo Riva che voleva fare il cantante solista il vice Vasco soprattutto fosse stato per me io avevo fatto come avevamo fatto per alcuni anni entrambe le cose quando Vasco non era un tournée noi facevamo i nostri dischi i nostri concerti e via andare però poi lì ci fu il litigio fra Vasco e Guido Elmi che anche perché era stato male era andato in ospedale avevamo fatto un intervento che produceva la Steve Rogers Band che produceva anche la Steve Rogers Band quindi lui ci ha un po' convinti convinti io personalmente e altri del gruppo non eravamo convinti di questo passo però vabbè il disco era prima in classifica una cosa e l'altra eccetera eccetera ci siamo fatti convincere a continuare da soli con le nostre gambe tant'è che poi comunque pur essendo ancora nella Steve Rogers Band io poi nell'89 ho suonato Liberi Liberi ho fatto metà del disco Liberi Liberi quindi la collaborazione con Vasco in studio continuava insomma sì a lui è mancata molto questa cosa però da allora rapporti d'amicizia con i musicisti che man mano sono arrivati sono entrati non c'è più stata come prima e quindi erano dei professionisti che facevano il loro lavoro sì quindi è come se fosse una nuova fase proprio della carriera di Vasco ma tu adesso ne avrei parlato in centinaia di interviste ma tornassi indietro ti sei pentito di questa scelta avresti o sarebbe stata una cosa inevitabile comunque no no avrei dovuto spingere avrei dovuto io sono sono una persona molto generosa no per cui per stare dalla parte degli altri spesso e volentieri mi sono preso delle colpe che poi non avevo come ho detto anche nel mio libro però io avrei continuato a fare entrambe le cose assolutamente anche perché poi questa cosa te l'hanno sempre fatta pesare negli anni no me l'hanno fatto pesare poi il pubblico che non a te in particolare sì poi il pubblico che non sa no il pubblico vede solo esteticamente quello che succede mi sono preso delle colpe mi sono preso di tutti i colori per degli anni come se fossi stato io a mollare Vasco come se poverino lui sì perché eccetera eccetera mi sono preso delle colpe che non avevo ho capito assolutamente per cui sicuramente non non l'avrei più rifatto insomma assolutamente tant'è che poi comunque ci siamo incontrati nel nel 90 comunque in tutti i modi la Steve anche perché non avevamo pazienza cioè non tanto io quanto Riva lui voleva bruciare le tappe insomma concluso il contratto con la CVS Sony insomma non avevamo un contratto discografico che però si sarebbe trovato insomma velocemente eccetera eccetera insomma morale io rincontro Vasco una notte in un locale a Bologna lui mi dice devi tornare a suonare con me stava per partire con questo tour internazionale cui tenevo molto perché a me piace suonare all'estero c'è un pubblico preparato molto più che in Italia insomma c'è sempre più soddisfazione per cui io accettai di tornare con Vasco però insomma me l'ha sempre fatta pagare non è che ci sono dati mai molto leggeri capito come se avessi fatto chissà che cosa lui aveva continuato ad avere il suo successo anzi il successo era aumentato quindi voglio dire bene o male certo non è che il fatto che io il mio split avesse creato dei problemi di ordine di successo o di vendita dei dischi era una cosa più personale sì che poi alla fine la storia dice che le cose si sono riappianate fino a quell'episodio a metà 2014 2015 che c'è stato questa insomma querelle un po' pubblica dove anche lì Vasco ti aveva criticato pubblicamente che tu come come hai vissuto lì è stata pesante io me lo ricordo che addirittura penso di averla vista al telegiornale esagerà no perché tu in una risposta ad un'intervista insomma è stato interpretato in un modo no ma lì è stato un giornalista che mi stava intervistando io per telefono io stavo cambiando le cose della chitarra e ha scritto delle cose che non avevo detto ah quindi questi dei giornalisti improvvisati bisogna sempre avere un po' di timore e farsi rileggere io infatti nelle interviste mi faccio sempre rileggere quello che hanno scritto perché spesso e volentieri ci mettono delle delle gran panzanate insomma poi Vasco era in un periodo no perché lì per chi non lo sapesse è andata che insomma lui ha fatto proprio una credo un video un post pubblico nei tuoi confronti molto pesante molto pesante e anche molto offensivo esatto e tu nonostante tutti gli anni di carriera e le spalle larghe che ti sei fatto come hai vissuto emotivamente l'ho vissuto l'ho vissuto e che chiaramente insomma voglio dire non mi ha fatto certo piacere però avendo comunque conosciuto Vasco negli anni poi un Vasco così che comunque viveva viveva veramente una vita spericolata per cui insomma è stata dura però poi alla fine le cose si saranno riappianate sì si sono appianate tant'è che poi nell'estate del 2000 questa cosa successe nel 2012 poi nell'estate del 2012 mi chiamarono io facevo le mie serate eccetera eccetera mi chiamarono perché lui era giù in Puglia lì a Castellanetta dove aveva andava così andava in vacanza e allora mi telefonò dicendo guarda voglio fare un piccolo concerto per i fan e niente insomma poi per la prima volta dopo tanti anni ci siamo sentiti per telefono tranquillamente ci siamo mandati le mail la scaletta come la faresti tu era tornata un po' l'atmosfera dei vecchi tempi eccetera eccetera e lui era molto depresso depresso nel senso che anche fisicamente aveva dei grossi guai fisici hai capito però facevo questo mini concerto dove lui in canzone si mise a piangere insomma è stata bella è stata bella cosa dopo io ho fatto il tour dell'anno dopo tranquillamente e poi niente poi Guido Elmi che comunque anche lui col suo con i suoi modi di fare anche se più diretto anche se con un modo più diretto di Vasco Vasco è sempre un po' nascosto a volte dietro altri tirapiedi no? e bene o male aveva conosciuto questo Vince Pastano e niente erano diventati molto amici tant'è che durante le prove del 2013 io che avevo già da qualche mese avevo avevo un impegno di una serata dici con Elmi io devo andare a fare questa serata ho un contratto firmato poi la cosa successe anche a Steph e lui fa ah non c'è problema frattanto c'è Vince che ha usato la mia roba ha fatto le sue prove tanto lui sapeva già tutti i pezzi ma io avevo già capito io avevo già capito com'era la storia per cui dopo questo tour dopo qualche mese non è stato non mi sono non sono caduto dal pero col fatto che Elmi mi telefonò dicendo questa non è una bella telefonata eccetera eccetera abbiamo deciso io e Vasco insomma di tenere Vince Pasta eccetera eccetera dico vabbè qualche anno te lo sei fatto però ma sì anche troppi anche troppi mi ne sono fatti tutti sei fatto tutti questi anni meravigliosi fino poi diciamo all'avvento dei musicisti stranieri e dei batteristi in particolare avevo già suonato anche quei batteristi stranieri sì sì beh è vero i batteristi già erano arrivati perché da gli spari sopra in poi non arrivò facciamo un attimo gli spari sopra c'era c'era tedeschi c'era tedeschi nel tour però il disco l'aveva già fatto tu avevi suonato in quel disco lì degli spari sopra sì ho suonato lo show ho fatto i miei pezzi e vuoi star ferma l'uomo che è qui di fronte sì bella 4-5 pezzi bellissimo e nel tour c'era ancora Daniele poi subito dopo di lui è arrivato Dinkastronovo che tra l'altro Daniele io non c'ero e tu non c'ero lì perché ero con la Steve Rogers ah ok quindi erano tipo 93 96 ah 96 avanti ok no anzi ah perché nel frattempo nel 96 e fui licenziato hai capito e anche lì non mi fu detto da da Vasco in persona mi fu detto da Guido Elmi anzi neanche da Guido Elmi ma da Massimo Dilda che era il vice di Rovelli ma scusa perché tu fammi capire la Steve Rogers Band era ancora era ancora viva no no la Steve Rogers Band si era chiusa col 90 eh poi dopo io avevo suonato con Vasco 91-92 nei tour all'estero poi facciamo un tour italiano anche lì negli stadi nel 92 poi 93 e poi 95 rock sotto l'assedio e e basta sì quindi nel 96 via e quando sei rientrato subito dopo però sono rientrato quando è morto arriva ah ok perché avevo bisogno di una persona familiare hai capito in una in una situazione così tragica eccetera 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 io rientrai nel 99 e poi niente sono rimasto praticamente sempre fino al 2013 fino al tour del 2013 sì parlami un po' dei batteristi con cui hai suonato quelli con cui adesso dire quello con cui ti sei trovato meglio magari una domanda imbarazzante però te lo posso anche dire il batterista tutti avevano il loro stile il loro modo umanamente cioè voglio dire io ho sempre avuto ottimi rapporti con gli stranieri con gli italiani insomma perché con Alberto Rocchetti siamo amici fratelli da una vita e lo considero il miglior tastierista italiano vabbè poi il Gallo amici da sempre insomma bene o male Frank Nemola Clara con Clara avevamo fatto i dischi di Clara in the Black Arts invece facevi i cori con la Steve Rogers Band con i batteristi mi sono trovato sempre molto bene hai capito il primo con cui suonai fu appunto quello che era Jonathan Moffett Jonathan Moffett me lo ricordo al funerale di Riva sai gli americani sono molto molto religiosi mi ricordo lui al funerale che pregava cioè ma è una cosa che mi ha colpito moltissimo è una cosa particolare di Jonathan che si portava dietro delle valigie piene di pesi ma va si c'era il suo road manager che portava questi valigioni veniva giù in ascensura buf 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 e lui aveva queste e queste valigie piene di pesi di robe perché in camera faceva un ottimo batterista funky io l'ho sentito suonare dei funky del pomeriggio sai soundcheck il rock non è il suo genere capito infatti aprivamo con lo show dopo era già sfatto capito però funky di brutto eh si alla gambe e poi dopo venne Jonathan Moffett Jonathan Moffett nel 2001 no Jonathan Moffett è questo poi venne Kenny Aronoff Kenny Aronoff esatto dopo Jonathan venne Kenny Aronoff che io conoscevo già dai dischi fantastico uno dei miei preferiti che aveva fatto con tutti eccetera eccetera ma la simpatia e infatti tutti i batteristi americani con me hanno sempre legato tantissimo no? perché io ero un po' nella band quello che li portava quello che consigliava no? essendo io sempre stato un amante di ristoranti di vini gourmet eccetera eccetera capito? e quindi ti facevi stare bene chiedevano a me eh Maurizio tonight we're going to vieni con me ok eccetera eccetera e per cui Kenny grande batterista poi si presentava sul parco con questa specie di maschera da alieno no? bravissimo veramente bravissimo molto molto bravo poi come carattere fantastico è rimasto poco nel periodo è rimasto è rimasto fino all'attacco alle torri gemelle perché lui aveva già preso un impegno con Joe Cocker ah ok e allora dopo ci fu l'attacco alle torri gemelle perché il tour si svolgeva in due parti e allora non si riusciva a trovare un batterista che venisse morale venne questo Mike Bird me lo ricordo bene simpaticissimo bravo 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 con un grande groove poi magari Phil un po' anni 70 capito? che suonava con i giorni si si aveva fatto un sacco di dischi aveva fatto un sacco di dischi che era molto amico di Steve Lukater infatti me ne ha raccontato di tutti i colori con Steve Lukater che alla notte andava fuori con un tacchino andava a bussare alla finestra come on come on no no it's three o clock no no come on with me insomma e va eccetera 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 non facciamo gesti eccetera eccetera e poi Matt Mike è rimasto nella fine del tour del 2001 poi 2003 2004 e 2005 si è rimasto rimasto un po' dopo nel 2006 non abbiamo fatto niente nel 2007 è arrivato Matt Logue Matt Logue bravissimo un po' di nascosto perché insomma era già stato contattato ancora Mike ma poi non lo chiamarono suonarono e arrivò Matt che veniva dalla band di Slush e da allora c'è sempre stato lui a parte c'è stato Will Hunt Will Hunt io non l'ho conosciuto non ci hai suonato con lui no no perché io poi dunque 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ho suonato altri sette anni con Vasco con Matt Logue poi dopo c'è stato anche Glenn Sobel sì lei ci hai suonato ma lui sostituiva forse sostituiva Matt credo sì perché non so aveva avuto dei problemi fisici bravissimo lui molto bravo fra l'altro l'abbiamo rincontrato tre anni fa a Lucca che suonava con gli Hollywood Vampires sì sì con Alice Cooper esatto e infatti al pomeriggio eravamo io e lui siamo andati alla cassa credit a prendere i biglietti vedo Glenn ehi Maurizio what's going on hai capito perché poi la cosa che mi piace dei musicisti stranieri anche inglesi che loro cioè se tu sei bravo sei bravo hai capito infatti mi ha fatto una festa della Madonna gli ho presentato aereo gli ho detto sai mio figlio suona la batteria poi mi ha fatto la foto eccetera eccetera e l'ho trovato migliorato perché forse sai con noi con Vasco ha suonato qualche mese per cui forse era abituato a suonare delle cose più veloci più stringate eccetera eccetera abituato a Matt che ha questo groove molto appoggiato molto che è proprio quello che piace a me e mi sembra anche al Gallo sembrava che tirasse un po' avanti un filino e invece con gli Hollywood Vampires l'ho sentito proprio molto molto appoggiato in the pocket no? sì 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 e per cui insomma tutti i batteristi fantastici ognuno al suo modo ti sei sempre trovato bene sì però mi sono sempre trovato bene sia musicalmente che umanamente ma a livello di band tu mi hai detto da quel punto lì dagli anni 90 in poi è diventato un po' un lavoro di andare sul palco a fornire una prestazione professionale al massimo delle possibilità certo 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 ma negli anni 80 invece quando eravate proprio band beh comunque ci veniva richiesto eravamo noi i primi a voler suonare al meglio delle possibilità sì capito a noi è sempre e devo dire Guido Eme in questo è sempre stato un po' il coach quello che ci spingeva quello che insomma ci dava dei consigli eccetera eccetera no no noi volevamo suonare bene sempre poi con l'esperienza abbiamo imparato a suonare veramente a tempo veramente come si suona sul click poi essendo dei grandi ascoltatori di musica insomma suonare capito con quel groove con quell'appoggio ma non come fanno adesso tutti quanti tutti 1 2 3 4 hai capito poi è chiaro con gli americani ancora meglio insomma perché poi voglio dire però senza fare il minimo della fatica insomma c'è sempre stato fra noi musicisti c'è sempre stato un grande rispetto un grande divertimento eh assolutamente insomma e anche al di fuori della musica insomma e però si era diventato diciamo più un lavoro insomma ci veniva richiesto eh di suonare al massimo delle potenzialità e noi ben volentieri lo facevamo certo certo era per capire se magari nel decennio precedente il fatto di avere anche questa amicizia sul palco poteva essere un valore aggiunto che i fan percepivano le cose cambiano le cose cambiano nel senso che comunque è sempre stata cioè voglio dire non era la band Vasco Rossi e i suoi solisti eravamo era Vasco Rossi e noi eravamo i musicisti che si collaboravano anche in studio io e qualcun altro in particolare eh scrivevo delle delle musiche che andavano sui sui dischi di Vasco però insomma bene o male il rapporto era diventato professionale molto professionale poi insomma lui bene o male sai quando un personaggio diventa così grande sì 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 e tutto il resto chiaramente sai il rapporto non è mica solo lui io vedo anche personaggi di adesso tipo non faccio dei nomi mi hanno detto che insomma anche ragazzi usciti da un anno due anni a parte che tutta sta facilità di riempire gli stadi mi sembra così strana cioè capito cioè la gente va più volentieri negli stadi perché sono i tempi dello sport però magari fai pochi concerti cioè non è che fai un vero proprio tour nel senso fai l'evento certo fai l'evento però mi stupisco di certi personaggi che usciti dopo un singolo di successo già fanno gli stadi c'è chi dice che le case discografiche i management comprano molti biglietti loro per far vedere perché adesso la gente vuole vedere il gran pienone allora se c'è il gran pienone tutti desiderano esserci se vedi poca gente la gente non va cioè almeno la gran parte della gente non va a vedere i concerti per la qualità della musica oppure sì per l'esperienza proprio per l'esperienza ci andiamo noi ci andiamo noi che amiamo la musica oppure mio figlio oppure tanti ragazzi giovani che comunque hanno una cultura musicale però il grosso ci va non sa neanche tant'è che ancora adesso mi incontra tanta gente mi incontra sono ieri eh ti abbiamo visto ieri sera a San Siro ma no veramente non ero io come no eri tu la gente non sa neanche chi c'è sul palco non basco assolutamente ma tu quindi come valuti questi per dire i reality questa cosa del arrivare velocemente perché alcuni hanno anche fatto la gavetta no? prima di andare a fare questi reality però la maggior parte di loro ma quale gavetta? che gavette hanno fatto? quando vedo dei personaggi tipo case di lego che gavetta vuoi che abbia fatto? ha fatto la gavetta all'asilo oppure con la mamma e papà eccetera eccetera è tutto un business è tutto un business perché allora se come non succede da tanti anni anche i gestori dei locali facessero suonare i gruppi musicisti con del materiale loro ma tu lo sai che a me chiedono la maggior io ne avrò fatte delle cose i gestori dei locali mi chiedono sempre di recitare la mia parte di chitarrista storico di Vasco Rossi e io quasi sempre dico di no oppure faccio qualche serata con qualche gruppo di amici da tanti anni ma perché io se non riesco io a suonare col mio gruppo e fare le mie cose la mia storia che sono pezzi che ho scritto per Vasco Steve Rogers Band di cui ho scritto il 90% delle canzoni qualche altra collaborazione classici del rock and roll e pezzi dei miei dischi solo qualcosa insomma no sempre difficilissimo difficilissimo infatti questa cosa ti chiedo anche nel contesto dell'analisi un po' della tua carriera se prima tu hai detto forse ci sono stato anche troppo nella situazione questa cosa ti ha un po' etichettato logicamente come il chitarrista ma va bene ma io non rinnego e va benissimo però io vorrei poter fare entrambe le cose io ho da anni di musicisti ma allora negli anni 90 lo facevamo andavamo in giro io il gallo tedeschi o Leoncini Mimmo andavamo a suonare in tutti i locali d'Italia suonando non facevamo un pezzo di Vasco Rosso ma neanche della Steve Rogers Band facevamo David Bowie facevamo Yuhuu il pubblico è impassivo adesso hai capito non è colpa del pubblico è colpa dei gestori dei locali hai capito che voglio dire voglio dire mi conoscono cani e porci quindi dovresti avere la serata sicurata invece no invece sempre oppure vabbè non parliamo dell'Emilia Romagna in particolare Bologna, Modena Reggio Emilia no Reggio Emilia no e Forlì eccetera eccetera dove se non sei Andy tutto è tutto Andy ha bella sbringo sbringo hai capito no perché io sono troppo mainstream beh avevi fatto quella cosa molto bella con la notte delle chitarre voglio citare c'è il mio amico Max Müller alla batteria quella l'abbiamo fatta per tanti anni e ancora a volte capita hai capito però è qualche data hai capito però è mai possibile che io faccia fatica a fare delle serate poi la gente mi chiede ma perché non viene a suonare a Brescia perché non viene a suonare a Milano perché non viene a suonare a Torino ho parlato con agenzie e questo che è stato su e giù eccetera eccetera però alla fine non non si quaglia cioè faccio qualche data perché mi scrivono le mail personalmente interessati e e le faccio certo certo senti parlami di una cosa tuo figlio suona la batteria Eric che è qua a 16 io l'ho conosciuto un rocchettaro incredibile come gestisci un figlio che suona uno strumento cioè gli stai addosso gli rompi le balle e lo lasci fare ma neanche un po' non ce n'è bisogno non ce n'è bisogno perché ha sempre dimostrato eh un grande eh una grande passione e quando lui era bambino lo portai da Andrea a Gè e gli dissi eh perché ho visto un po' in me in lui quello che ero io da piccolo andavo al ristorante con eh con i miei genitori e coltello Forchetta insomma battevo il tempo eccetera eccetera lo stesso faceva lui allora l'ho portato da Andrea e Andrea ha l'ha sentito perché lui già suoni chiave con una batteria digitale che gli avevo comprato da un mio amico eccetera eccetera e gli ha fatto un test e ha detto sì sì ci siamo ci siamo assolutamente per cui da lì è cominciato ad andare a lezione da 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 Andrea oggi secondo te tu l'hai mandato a lezione no? quindi l'hai iscritto nella scuola comunque con un insegnatore oggi secondo te rispetto ai tuoi tempi eh per come è cambiata la musica per come è voluta è importante avere una avrei voluto farlo anch'io se i miei invece di farmi fare medicina mi avessero fatto fare non so già allora c'era qualche piccola eh anche solo il dams a Bologna capito comunque c'erano scuole di jazz eccetera eccetera sicuramente mi sarei sentito avvantaggiato però i tempi erano quelli tu guardi anche Paul McCartney non sa una nota però ai maturi quell'orecchio quell'ear training pazzesco però in questi giorni sto guardando Get Back che è uscita la anche io però se tu noti lui basso chitarra pianoforte suona benissimo dice a tutti cosa fare eh perché c'era il padre il padre che suonava il piano lui l'aveva in casa l'aveva imparato e comunque voglio dire erano ben preparati perché senti anche Harrison ah infatti che chitarista è anche Lennon anche Lennon faceva tutte le sue cose capito cioè anch'io cioè io bene o male il mio strumento credo di saperlo suonare bene però l'ho imparato da solo poi è chiaro guardando i concerti guardando le prime videocassette didattiche eccetera eccetera ma i dischi ascoltando soprattutto i dischi siamo un po' così tutti noi della nostra generazione capito oggi noto che i ragazzi hanno un po' la tendenza sono informati su tutto no? perché ci sono i social eccetera però non sono molto affezionati adesso sto generalizzando un po' troppo forse però in realtà conoscono i nomi ma non conoscono tanto le canzoni conoscono le canzoni ma non conoscono tanto i dischi no? cioè è difficile che ci sia una ascolto le canzoni singole o i video quindi questa cosa magari perde un po' una cosa che noto io che sono un po' una generazione di mezzo che ho vissuto il cd e le cassette però anche tutta la parte digitale l'arrivo di spotify tutta questa roba qua sarebbe bello tornare proprio all'ascolto dei dischi delle canzoni come una volta no? perché oggi tu vai appunto sui social tu da chitarrista avrai visto tutta questa evoluzione che ha avuto tecnica virtuosa allo strumento cosa ne pensi a proposito di questo tipo di questo modo? allora io i social li frequento non tantissimo però diciamo musicalmente ci sono tante belle cose importanti e si imparano anche tante belle cose devo dire allora le scuole sono fondamentali perché comunque hanno insegnato a tutti come muoversi anche i generi musicali imparare tutti gli stili musicali eccetera eccetera però hanno tolto tutta questa tecnica e tecnologia ha tolto un po' l'originalità perché più o meno sono sono quasi tutti bravi tecnicamente però non non li sai distinguere l'uno dall'altro io adesso come adesso in Italia voglio dire vabbè tutti i miei amici i chitarristi Ricky Portera lo riconosco lontano un chilometro Dodi Battaglia e tanti altri e Luca Colombo e tanti altri ci sono tantissimi bravi musicisti però non li sai distinguere da un suono particolare da un tocco particolare quello che molti dicono anche nella batteria che a livello tecnico soprattutto un certo modo di suonare la batteria si fa fatica a distinguere appunto lo stile anche perché non è colpa loro è che non c'è più la richiesta ad esempio in tanti anni e questo succede anche all'estero era importante l'assolo di chitarra l'assolo di sax l'assolo di piano eccetera eccetera adesso nella musica italiana prima è cominciata che alla radio sfumavano sulla sola adesso la sola non c'era neanche più esatto e una cosa curiosissima è stata che con il grande successo dei Manneskin Billboard che è la bibbia delle classifiche americane ha detto fa con i Manneskin anche le radio americane si sono rimesse a mettere su dei pezzi con i soli di chitarra con le chitarre che poi non è vero perché poi voglio dire vai negli stati del sud ci sono radio di ogni genere capito dove southern, blues hard rock heavy metal nu metal eccetera eccetera non è mai sparita la chitarra in Italia speriamo che questa cosa faccia ritornare la voglia di i soli di chitarra quindi tu sei un supporter come me dei Manneskin sì assolutamente ma sai che tanti insegnanti mi dicono che i ragazzi vanno là e dicono voglio suonare il basso perché voglio suonare la batteria ma per fortuna per fortuna per fortuna vedi che però alla fine il successo lo devi trovare sempre all'estero perché all'estero c'è rispetto tu vedrai tu avrai letto che anche grandi giornalisti appassionati di musica come Carlo Massarini hai capito sono felicissimi del successo di finalmente una band italiana beh l'unica band italiana che ebbe un buon successo all'estero è stata la PFM però nel mondo del progressive quindi non nel 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 mondo diciamo mainstream che poi si i Manneskin non fanno poi cioè c'è qualcosa di Manneskin di mainstream ma soprattutto loro si ispirano più non so a Iggy Pop and the Stooges a Lou Reed hai capito queste cose che anche dal punto di vista della scrittura della canzone sono tutte abbastanza lineari no? non ci sono delle grandi aperture melodiche certo roba semplice se vogliamo roba semplice che comunque piaccia al pubblico giovane perché il pubblico giovane è abituato comunque alla musica un po' un po' statica dal punto di vista musicale monocorde hai capito? e per cui io sono felicissimo contentissimo e la grande speranza sarebbe quella che questa cosa portasse un po' a rivedere delle delle situazioni delle soluzioni anche in Italia perché io girando sai in giro sai quanta gente mi ha dato negli anni dei CD e anche gruppi rock insomma non male hai capito? assolutamente qualcosa c'è infatti non a caso io mi unì alle custodie cautelari perché quando senti i primi pezzi oppure ho cominciato a collaborare con Michele Luppi perché mi hanno dato dei demo che erano già bellissimi hai capito? per cui mi piace lavorare con della gente che mi colpisce subito insomma e con cui lavoro ancora adesso e per cui speriamo che questa cosa porti tolga un po' di finti hai capito? e metta dentro e poi secondo me perché hanno avuto un così grande successo in America anche per un fatto estetico perché gli americani bene o male sono sempre un po' cowboy no? che va bene ok? vedere una band che comunque fa rock vestiti cambiando sempre diversi con degli outfit pazzeschi anche un po' esagerati nel senso che si rifanno più al glam al bowie e all'uride o all'e-pop degli anni settanta insomma torso nudo mezzi nudi oppure un giorno elegantissimo il giorno dopo dopo correggi calze capito? per cui anche tutta questa cosa ha dato una svegliata agli americani che hanno detto molto probabilmente non ce n'erano più perché Greta Van Fleet sono bravissimi li abbiamo visti anche dal vivo però sono più perbenino sono così non è gente che sul palco si butta per terra fa scena eccetera eccetera per cui anche questo è stato è stato importante allora terza parte il microfono lo stacco così faccio parlare anche eric guardatelo bene sto ragazzo perché è l'uomo che spacca più bacchette sulla fascia della terra perché picchi come un drago qua i vicini non saranno contenti di questa cosa ormai mi sopportano ci hanno fatto l'orecchio senti ma è vero che papà non ti sta addosso o un po' si? ma no non mi sta addosso anche perché suoniamo due strumenti diversi abbiamo strade separate quindi io diciamo ho studiato e sto studiando per la mia strada diciamo perché suoniamo due strumenti completamente diversi stai facendo musica tua? allora ho un gruppo ci chiamiamo black ice andateci a seguire su instagram black ice band dove facciamo cover di pezzi famosi abbiamo una cantante ragazza molto brava facciamo pezzi dei cranberries zombie abbiamo fatto il video di zombie seven nation army sai che la cantante dei cranberries che incontrai a monte carlo nel 2006 per il concerto di natale eccetera eccetera dopo le prove in ascensore mi fece stai riconosciuto? no no non mai riconosciuto però io sono piaciuto ah io facevo suonavo con skin ah si veramente ah però se vai su youtube skin summertime con tutta l'orchestra che spigliata f*** figata si figata oltre a quello suono con il suo gruppo con la solieri gang te lo porti già in giro ma sono già degli anni come diceva prima stiamo facendo il disco nuovo insomma siamo in fase di mix quindi sta venendo un gran bel lavoro non vi spoilerò niente però aspettate che sta avvenendo un gran bel lavoro niente, il tuo batterista preferito? Tommy Aldridge così si fa, allora vai da Michele Lupi e te lo fai presentare infatti l'ho stalkerato un bel po' Michele Lupi ha sempre suonato nei miei dischi e delle volte anche dal vivo anzi abbiamo pensato quando si potrà eccetera eccetera di fare, visto che adesso i locali hanno problemi economici anche perché non possono fare entrare tutti eccetera eccetera, vogliamo fare qualche serata poi non so quando eccetera eccetera in trio, io, lui e Lupi, visto che Lupi suona sia il basso che le tastiere e la chitarra, capito? e poi canta male soprattutto, canta benissimo, altri pezzi li canto io in inglese così, sarebbe molto interessante, capito? Tommy Aldridge l'abbiamo visto nel 2019 coi white snake, vacca voi, cioè magro così picchia dei livelli che dico è la miseria, cioè sta calmo, è la miseria grande, grande entusiasmo, cioè se suono, faccio io una solo così sì, alla mia età mi è un infarto, cioè però secondo me lui, a parte questa attitudine che ha naturale no ma è proprio tecnica è tecnica, è tecnica, è tecnica, è tecnica proprio se suoni così a quell'età è proprio perché sai come si suona sì sì, a lui è una vita sempre suona beh, complimenti ragazzi, bella famiglia Solieri se gli dovessi dare o se gliel'hai già dato il miglior consiglio che tu hai imparato negli anni la cosa da non fare, l'errore più grande che hai fatto o a un ragazzo giovane ma gliene do sempre, gliene do sempre che sono poi le cose che ho fatto io, capito? e infatti lui ascolta molto, assolutamente infatti ha sempre suonato appoggiato perché ha sempre sentito i discorsi al telefono io con gli altri musicisti eccetera eccetera non è mai stato di quelli non è importante assolutamente, e poi il consiglio che gli do sempre hai capito, di imparare a suonare diversi stili musicali perché essere versatili è difficile essere in questo momento in Italia in questi anni personaggi io credo che lui lo diventerà perché comunque personaggio è anche, cioè voglio dire come Ivano Zanotti Ivano Zanotti che è stato anche un suo insegnante ha suonato con me per anni eccetera eccetera l'essere personaggio è importante comunque insomma e lui lo è sempre stato fin dalla prima volta venuto sul palco ehhh è bello anche dell'età per cui per cui per me bisogna trasmettere anche della carica perché se vai sul palco lì tutto timido che vai a vedere che hai paura o che non hai energia che vuoi trasmettere per me è meglio cambiare lavoro bisogna andare sul palco e andare lì con della carica perché sennò c'è Scuola Soglieri Scuola Soglieri esatto Scuola Soglieri Scuola la musica con cui sono cresciuto io hai capito io mi ispiro anche molto ai batteristi stranieri per esempio Tommy Oldridge ma anche altri Tommy Lee piuttosto che quando ero più piccolo mi piaceva molto Roger Taylor quello degli Iron Maiden Nico McBrain insomma sono tutti batteristi anche molto scenografici batteristi da me anche a livelli di drum kit perché anche il kit che mi sono fatto giù insomma rispecchia abbastanza quel periodo di batteristi lì quello stir batteristico lì oh comunque devi trovare uno Eric Singer devi trovare uno sponsor di bacchette perché c'è sotto la legnaia però se c'è il cammino c'è il cammino siete a posto esatto c'è il cammino e non lo accendiamo le do alla mia cucina adesso dopo andiamo a fare una ripresa della legnaia la facciamo no ma adesso l'ho anche pulita io sono andato giù ma quando? ah si ma quando? ieri l'ho tirato su ma tu mica visto era bello invece tutto così no se vai a vedere le mie foto di instagram di un paio di mesi fa c'avevo una mucchia di bacchette fino a ieri c'era la segheria no un po' pulito adesso però qualcosa è rimasto andiamo a vedere giù? dai andiamo a vedere giù dai andiamo a vedere ciao ciao ciao